Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi tocca a me guidarvi tra le principali notizie che riguardano la provincia di Belluno con uno sguardo iniziale a come sta andando in Italia perché ovviamente anche oggi le prime pagine sono tutte occupate dalle notizie sul coronavirus. Ovviamente con qualche spunto così di speranza in più per come stanno andando le tendenze a livello nazionale e soprattutto in Lombardia. C'è anche il grande piano strategico contro il virus organizzato dalla Regione del Veneto presentato ieri, realizzato proprio in collaborazione stretta con gli esperti dell'Università di Padova che è un colosso nella medicina. Si è deciso di mettere a frutto tutta questa sapienza, questa esperienza per cercare di provare un approccio veneto forte, muscoloso diciamo anche, a caccia soprattutto delle persone che possono essere state contagiate e che però non sanno di essere contagiose perché hanno sintomi lievi o non ne hanno per nulla. Quindi di tutto questo vedremo adesso nella rassegna stampa che proviamo a proporvi puntando soprattutto sui nostri giornali locali. Partiamo però dalla prima pagina del Corriere della Sera, come vi dicevo prima, dove il titolo principale è questo, morti e ricoveri primi spiragli. Allora i dati nazionali come abbiamo detto mille volte sono fortemente condizionati dall'andamento della situazione in Lombardia. Il locchiello, lo leggiamo, bisognerebbe così sottolinearle queste parole. È ancora presto per parlare di tendenza. Ma le vittime sono in calo per il secondo giorno consecutivo. Allora attenzione, che cosa vuol dire? Perché poi quando si fanno i titoli sui giornali per forza si è costretti alla sintesi perché si hanno poche parole. D'altra parte è il titolo ma sembra che i numeri siano in calo. Non sono in calo i numeri, sono in calo le percentuali di incremento. Cioè se ieri un dato aumentava dell'11%, magari oggi aumenta del 9%. E siccome per giorni si è andati avanti con percentuali che crescevano sempre di più, vedere che c'è una piega in qualche modo fa sperare. È questo che fa sperare. Però i numeri sono ancora spaventosi e anche ieri abbiamo visto 600 morti in un giorno. È una cifra enorme e spaventosa. Comunque insomma l'occhiello del Corriere della Sera sulla prima pagina, lo vedete, è questo. Ancora presto per parlare di tendenza ma vittime in calo per il secondo giorno consecutivo. Frenata in Lombardia. La Gran Bretagna chiude tutto. La Gran Bretagna dove il Premier solo pochi giorni fa invece con un fare veramente arrogante e così insomma con un modo di esibire insomma una sicurezza assurda. Infondata aveva detto che in Gran Bretagna sarebbe andato tutto avanti come prima. Invece adesso si sono resi conto tardi, tardi, che devono chiudere nuove norme, droni e sequestro dell'auto a chi viole i devieti. Un'app per tracciare i contagiati. Di questo si è parlato, ne parlava anche ieri il Corriere della Sera con un approfondimento di Data Room della Gabanelli. Il lancio emergenza coronavirus altro giorno di dati in calo. Frenata sul numero di morti e dei ricoveri. Primo giorno positivo di un mese durissimo, dice l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Ma il governo annuncia nuove misure per contenere il contagio e consolidare il trend virtuoso. Prevista oltre alla multa anche il sequestro, previsto anche il sequestro dell'auto per chi trasgredisce ai divieti. Verrà utilizzata anche un'app per riuscire a tracciare chi è stato contagiato. Questa è una cosa che era stata utilizzata già in Corea del Sud, però qui si ritiene che vada a confliggere molto con la privacy. Allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia sta accelerando in tutto il resto del mondo. Sono 350.000 i casi di Covid-19. Noi dobbiamo ricordarci che quando si dice 350.000, purtroppo diciamo quelli noti, perché dopo bisogna vedere quanti sono in realtà i contagiati che girano senza saperlo. Questa è la realtà. Milano, oltre 1.800 malati sfuggiti alle statistiche, è appunto ciò di cui vi sto parlando. Sono stati scoperti dai medici di base senza tampone. Nel giro di 48 ore i medici di base di Milano sono riusciti a intercettare 1.800 malati con sintomi Covid-19 da mettere in quarantena. È il risultato della nuova strategia adottata contro il coronavirus, isolare i possibili positivi. E qui mi permetto di dire, sono giorni, giorni che evidenziamo sull'Amico del Popolo, con i nostri articoli, che nel Veneto è proprio questo che si sta cercando di fare. Nel Veneto il numero delle persone isolate è molto, molto maggiore. In provincia di Belluno è quattro volte tanto il numero delle persone riscontrate positive. In Italia invece la media insomma dice che gli isolati sono addirittura meno dei ricoverati, quindi si è fatto pochissimo nel tentativo di mettere un cordone largo attorno alle persone probabilmente malate. I pazienti con sintomatologia simile influenzale, di cui non è nota l'eventuale positività, devono essere considerati come sospetti casi Covid-19, dice la Regione, io aggiungo adesso, la Regione Lombardia. Ed ora in avanti i dottori di famiglia dovranno seguirli ancora più da vicino e di fatto mapparli. C'è anche l'articolo che parla di Paolo Maldini, il famosissimo calciatore, che purtroppo è positivo al test e dice che stretta al petto non è la solita influenza. Paolo Maldini racconta la lotta sua e del figlio Daniel contro il virus. Il peggio è passato ma il governo aiuti Milano. Vi faccio vedere intanto anche la parte bassa della prima pagina, ormai che ci siamo, insomma con una foto tra l'altro della Lucia Bosè, la mamma del cantante Miguel Bosè, è stato un idolo per tante persone, insomma di una certa età, è morta a 89 anni, aveva sposato il torero spagnolo. Ecco, uccisa anche lei dal coronavirus, insomma queste sono notizie che ci fanno un po' impressione. Così come per le persone che sanno un po' di più di cultura, Alberto Arbasino è morto a 90 anni, anche lui il suonatore della lingua, dice il titolo della prima pagina, scrittore, giornalista, poeta, critico teatrale e politico. Alberto Arbasino è morto a 90 anni e c'è un ricordo di Antonio De Benedetti, ci sono due pagine addirittura su questa figura che se ne è andata anche lui a causa del coronavirus. Adesso sul Corriere della Sera Nazionale ovviamente c'è una quantità incredibile di approfondimenti, 20 pagine praticamente di approfondimenti sul coronavirus con un occhio particolare alla Lombardia e a Milano, è ovvio il giornale di Milano ma poi lì sono i casi gravi. Noi andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto del Corriere della Sera che si riferisce, che è appunto il Corriere del Veneto e si riferisce alla nostra regione. Allora vi faccio vedere la copertina, se ci riesco, ecco qui datevi un attimo, eccola qui, bruciati 3 miliardi a settimana, questo è il titolo su cui punta il Corriere del Veneto, edizione di Treviso Belluno, oggi il nuovo decreto scoppia il caso dell'occhialeria essenziale, sindacati all'attacco, baretta, misura necessaria, dal governo arriveranno aiuti, stop delle industrie, scioperi e caos, 40.000 quelle che dovrebbero chiudere la stima dei danni. Allora c'è di tutto in questo titolo, c'è dentro il fatto che appunto ci sono tantissime industrie che chiudono per il virus e che stimano danni in quantità incredibile, appunto 3 miliardi a settimana, c'è anche chi tiene aperto, questo genera scioperi, l'occhialeria è tra i settori un po' così in discussione, diciamo proprio perché l'occhialeria produce anche dei presidi che vengono considerati di fatto medici e quindi tutto ciò che riguarda la nostra alimentazione e la salute viene preservato dalla chiusura e quindi su questo insomma si vengono a basare anche determinate scelte che possono lasciare grosse perplessità. Al centro della pagina del Corriere del Veneto, della prima pagina, la foto di un medico fuori dall'ospedale con il camice, il telefono, volti preoccupati, una mascherina, il piano per i tamponi 20.000 al giorno, ecco qua vi dicevo prima vi annunciavo la regione, presenta il piano per estendere i tamponi anche agli asintomatici. Il perno del protocollo è arrivare nel giro di tre settimane a 20.000 al giorno con laboratori e 15 squadre di tre rilevatori volontari l'una perché tra le critiche che fanno all'idea così di andare a raccogliere i tamponi, tanti tamponi, la Lombardia proprio oggi c'è sui giornali l'assessore alla sanità della Lombardia dice che poi non si può farne troppi perché se no non si riesce a star dietro all'esame ai tamponi quindi è sbagliato farli random a parte che nessuno ha detto di farli random a parte Zaia che forse ogni tanto si lascia prendere dalle parole il presidente della regione e in realtà non non si tratta di farli random nel Veneto nessuno ha pensato a questo però questo piano della regione dell'università di Padova adesso nostri Veneto quindi prevede per esempio un potenziamento dei laboratori per arrivare all'esame del tampone e all'esito del tampone e tra l'altro ci sarà un potenziamento in questo senso di microbiologia anche qui a Belluno all'ospedale di Belluno. L'emergenza ferma anche il Vinitaly e poi tanti altri lanci insomma adesso non sto qui non sto qui a leggervi tutti i titoli di questa prima del Corriere del Veneto però una cosa ve la faccio notare taglio basso aumentano gli attacchi degli hacker con il crescere dello smart working sono sempre più di più i computer vulnerabili pensate un po' incredibile che ci sia sempre il deficiente di turno che si mette a rovinare il lavoro e la serenità anche degli altri quella poca che c'è no ogni giorno un utente rischia l'infezione di quattro virus non un paziente in carne ed ossa ma un fruitore web un'azienda un libero professionista un cittadino perché di virus in circolazione non c'è solo il corona dice il taglio basso Treviso scusate Trevi Group il punto di lancio parte da Treviso ha calcolato che dall'inizio dell'epidemia covid i tentativi di infrangere la sicurezza informatica si sono moltiplicati arrivando quasi a quadruplicare la tecnica preferita dei truffatori informatici è quella del phishing e il phishing è quella tecnica per cui ci mandano una mail che ci fa cadere ci fa abboccare al lamo appunto come un pesce no il phishing e questa questa mail ha dei contenuti magari dici di aprire un file dice di cliccare un link che sembrano credibili perché magari fa riferimento non so a una bolletta da pagare fa riferimento magari appunto col coronavirus fa riferimento a una serie di indicazioni da osservare per il canale coronavirus noi ci caschiamo apriamo la mail apriamo l'allegato clicchiamo sul link e ci becchiamo un virus sul computer che ce lo rovina che ce lo rovina del tutto magari no ecco questo purtroppo è il è la situazione c'è chi si inventa anche c'è chi si inventa anche queste cose no allora andando avanti con il il giornale volevo raggiungere appunto la pagina di belluno e mentre mentre sfoglio appunto vi vi avviso che ovviamente anche sul corriere del veneto sono molto numerose le 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 pagine dedicate al al coronavirus la pagina di belluno si apre con con questo titolo e torniamo al tema dell'occhialeria e dell'interpretazione delle norme virus i dipendenti della safilo scioperano il big dell'occhialeria a differenza di luxottica non aderisce alla serrata decisa dal governo il presidente di confindustria bertone la riapertura sarà terribile lo stato ci dovrà aiutare l'articolo è a firma di marco de francesco e nella foto dal dall'alto dall'aereo dal drone dall'elicottero da quello che volete insomma si mostra lo stabilimento di luxottica di agordo la testa proprio del dell'azienda carabinieri blitz anticontagio controlli sui divieti pistola nascosta nell'auto arrestato un 56enne in alpago la vicenda incredibile sono quest'uomo i carabinieri si sono accorti che stava nascondendo qualcosa quando i militari stavano per fermarlo per procedere ai controlli soprattutto per il coronavirus e si sono accorti che aveva una carabina semiautomatica nell'auto la stava nascondendo alla vista dei militari il nella parte nella parte bassa della della pagina troviamo questi titoli i malati sono 262 mascherine dono a comune e arma da due cinesi ci sono le fotografie e poi la settima morte per l'epidemia addio a piccolotto piero piccolotto che aveva 84 anni era attivo con l'associazione volontariato hauser ad alano autore del presepe subacqueo e contiamo appunto le vittime anche bellunesi e fa ancora più impressione quando poi sono persone bene o male note no magari anche per il loro impegno magari proprio anche nel volontariato e ecco questo fa fa più impressione dobbiamo però avere sempre memoria per tutto il dolore anche di chi di chi non conosciamo sono tantissime le persone nella sofferenza anche qui a belluno in provincia di belluno allora vi faccio vedere la prima pagina del gazzettino però dopo voglio andare al corriere perché mi preme soprattutto leggere un paio di cose la prima del gazzettino eccola qui meno contagi ma non basta test diffusi focolai isolati la cura del veneto e vi mostro anche la coppia di pagine 2 e 3 dove vi leggo i titoloni l'emergenza nord est tamponi a tappeto campagna antivirus in veneto saranno 20.000 al giorno la foto è di ieri di luca zaia che presenta la l'iniziativa si vede anche al tavolo il rettore dell'università di padova tutti con la mascherina i positivi finiranno in isolamento per bloccare così la diffusione il metodo dei cerchi concentrici test anche a familiari contatti eccolo qui vedete qui c'è scritto il metodo dei cerchi concentrici non c'è nessun modello random che ne dica anche oggi l'assessore della sanità della lombardia non siamo non è che si fanno le cose proprio a casaccio no qua nel veneto la svolta caccia gli untori nascosti si parte da soggetti e categorie a rischio ecco qui il discorso dei cerchi concentrici test diffusi e focolai isolati così è stato evitato il crack e questo è se vogliamo un primo bilancio che il gazzettino tenta su quel che è stato fatto finora per difenderci dal coronavirus andiamo alla prima del corriere alla prima pagina del corriere delle alpi campagna di tamponi per tutti il modello vo salva il veneto l'epidemiologo crisanti siamo in ritardo nella diagnosi bisogna cercare 250 mila infettati eccoli qua eccoli qua i numeri di cui diciamo da giorni e giorni su un amico del popolo perché 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 ovvio se abbiamo così tanti ricoverati vuol dire che ci sono un numero preciso abbastanza facile da indovinare di persone positive che stanno girando e sono molte molte di più di quelle che i dati ufficiali ci dicono quando leggiamo numero di casi positivi sono probabilmente almeno il doppio di quelli un piano per le case di riposo luca zaia non molla il lancio cavalca londa dei 65 mila tamponi record in italia e conferma la sua ordinanza sullo stop ai supermercati la domenica con la passeggiata fino a 200 metri da casa il la foto centrale del giornale il metalmeccanico chiude da domani tante incognite sullo sull'occhialeria e abbiamo detto e poi andiamo alla parte bassa della pagina dove appunto appunto qui insomma vediamo anche le persone no che magari sono un po più note falcade piange il maestro di sci silvio baratto era uno di noi era positivo al coronavirus aveva lavorato per tutta la stagione non ha mai perso un giorno dicono alla scuola di sci ed è morto i positivi salgono a 262 l'abbiamo detto già prima vedendo il la pagina del corriere del veneto qui volevo portarvi e qui chiudiamo con questo sapete però volevo portarvi appunto all'intervista a crisanti che è che è un'intervista molto molto interessante e merita secondo me di essere letta dunque adesso vi raggiungo la pagina e la inquadriamo anche in modo da poter leggere almeno qualcosa di questa intervista crisanti in ritardo nella diagnosi bisogna cercare 250 mila infettati è l'epidemiologo dell'università di padova che parla il modello vo ha salvato il veneto dal disastro autentica follia non aver istituito i cluster oltre che alodi e codogno a bergamo e brescia una tenda autentica follia dice l'epidemiologo dell'università di padova pensate un po professor crisanti il veneto contro 5.500 ricoverati in ospedale 13 e 15.300 in isolamento domiciliare le vittime sono 192 pari al 3,5 per cento sul totale dei ricoveri in lombardia la lombardia 17.400 contagiati nelle strutture ospedaliere purtroppo 3.100 decessi pari a quasi il 18 per cento come si può spiegare questa drammatica anomalia il veneto risponde crisanti a una percentuale di decessi da coronavirus leggermente più alto rispetto alla cina la possiamo spiegare con l'età mediamente più vecchia della nostra popolazione qui si vive di più e meglio il problema dei morti in lombardia nel resto d'italia dipende dal fatto che non si fa diagnosi all'appello mancano 250.000 casi di disinfezione che sicuramente ci sono il virus in lombardia non è diverso da quello che affligge il veneto e se con i modelli matematici normalizziamo i numeri dei decessi con quello degli asintomatici si arriva a 600.000 contagiati gli italiani lo devono sapere quei 60.000 casi a cui fa riferimento la protezione civile di borrelli non sono veri magari fosse così le università parlano di un'epidemia globale mai vista e quindi bisogna intervenire la domanda almeno 600.000 contagiati in italia sì purtroppo così e quindi è ingiusto mettere sotto accusa il sistema sanitario della lombardia che è stato inondato da un'emergenza mai vista purtroppo temo manchi la cultura epidemiologica per affrontare le epidemie le persone che hanno consentito a paesi interi di uscire dalla malattia dal tifo dal colera purtroppo non stanno più tra noi le risposte vere le abbiamo trovate a nel padovano in che senso professore a voi il 20 febbraio c'era il 3 per cento della popolazione infetta e noi l'abbiamo isolata completamente per 14 giorni zona rossa tutti fermi in casa in veneto abbiamo subito avviato tamponi sistematicamente a tutti quei 65.000 test hanno salvato la nostra popolazione dalla diffusione del contagio le altre regioni d'italia quanti infetti hanno nessuno lo sa calcolate il 3 per cento su base nazionale fate un po i conti si salva il sud quindi bisognava estendere la zona rossa in tutte le zone più a rischio non solo l'odio codogno evo ma anche bergamo e brescia che dell'intervistatore certo non averlo fatto è stata un'autentica follia bergamo senza far polemiche io penso che la procedura corretta sarebbe stata creare la zona rossa 25 giorni fa tutti fermi fabbriche negozi chiusi nessuno si muova poi via i tamponi allo screening di bassa individuata la prevalenza si procede con le misure adeguate ricoveri in in ospedale dice il professor grisanti crisanti sorveglianza attiva poi a domicilio non c'è altra ricetta purtroppo siamo in ritardo come fa un sistema sanitario a far fronte a questa marea se non sotto se non sono stati identificati i casi sul territorio nessuna epidemia si controlla con gli ospedali nessuna si controlla solo sui territori quanti sono i a disposizione del veneto ne possiamo fare 200 mila risponde crisanti so che è un problema reperire sul mercato immateriale l'epidemia è globale tutti sono alla ricerca degli stessi farmaci e reagenti professore come funziona la sorveglianza attiva con i sistemi informatici simili a quelli attuati in corea del sud il modello della corea del sud richiede sistemi informatici che noi non abbiamo fino a quando il governo non risolve il tema della privacy la nostra tracciabilità riguarda le persone che stanno a casa se una persona telefona per avvertire che ha sintomi di covid verrà subito visitato da un team di specialisti dell'università di padova prima misura il prelievo di sangue a lui e alla sua famiglia con il tampone se abita in un condominio l'esame verrà esteso a tutti gli inquilini e anche al vicinato agli amici e ai colleghi di lavoro per circoscrivere il perimetro del contagio sono due tre cerchi concentrici che vanno monitorati quanti tamponi contate di fare al giorno la domanda oggi siamo 2.000 2.500 contiamo di arrivare a 4.000 al giorno entro una settimana e di raddoppiare fino a 10.000 quando arriveranno le 11 nuove macchine grazie al coordinamento di tutti i laboratori regionali da quali categorie partirete le priorità sono chiare si inizia dagli anziani nelle case di cura che sono i soggetti più vulnerabili e poi il personale medico e ospedaliero le cassiere dei supermercati l'ordine lo fissa la regione eccoci con questo io mi fermo qui vi saluto vi auguro una buona giornata vi ringrazio per averci seguito in questa rassegna come fate del resto moltissimi ogni giorno vi raccomando di seguirci anche sul nostro sito www.amicodalpopolo.it dove cerchiamo di darvi tante notizie ogni ogni giorno e sono in molta misura aggiornamenti sulla diffusione di questa epidemia una raccomandazione che poi è sempre la solita state a casa stiamo a casa è l'unico modo per fermare questa epidemia avete sentito anche adesso cosa ha detto l'epidemiologo crisanti queste cose le epidemie non si curano in ospedale si curano si curano fuori dall'ospedale si curano cercando di far sì che non si diffondano quindi grazie a tutti e grazie anche per tutto quello che fate facciamo per cercare di tornare alla normalità al più presto insomma per cercare di uscire da questa cosa senza romperci troppo le ossa come dice il nostro presidente regionale no ciao a tutti grazie ciao